amici di lumismatica mi dispiace non potervi portare un video completo ma in questo video vi farò vedere molto brevemente un nuovo pezzo che si è aggiunto alla mia collezione questo bellissimo ventidire del 1927 mi si è rotto il computer in questi giorni di conseguenza è un po difficile registrare montare i vari video non mi piacciono gli shorts quindi credo che noi qui su lumismatica non ne porteremo almeno in questi periodi anche se youtube sta spingendo tanto su questo format ma voglio allietarvi la giornata facendovi vedere questa bellissima moneta noi ci vediamo presto con tantissimi nuovi video e con il progetto in cantiere più grande che abbiate mai visto a presto